La tempesta che si è sollevata dopo la richiesta di arresto per il senatore Azzolini, l'unica cosa sera ci sembra l'abbia detta ieri l'ex presidente del senato Schifani. Non a caso si tratta di una cosa di una semplicità elementare. Mentre il mondo politico si azzanna e si divide tra innocentisti e colpevolisti, tra chi voterà sì e chi voterà no alla richiesta di arresto e soprattutto su chi teme una crisi di governo se la testa di Azzolini cadrà e chi si prepara già per le elezioni anticipate, Schifani ha ricordato a tutti che le vicende penali sono personali e viaggiano quindi su un binario, mentre le vicende politiche di governo appartengono a tutti e viaggiano quindi su un binario diverso. Tradotto dal politichese non mischiamo le cose, una cosa è Azzolini, un'altra cosa è il governo. Con ciò Schifani ha avvisato anche il suo segretario di partito Alfano di non spingersi troppo oltre nella difesa ad oltranza di Azzolini fino ad arrivare a minacciare la crisi di governo. Le due cose vanno valutate in maniera differente. Su Azzolini saranno le prove offerte dalla procura di Trani a far decidere i commissari del senato. Sul governo l'analisi e l'eventuale crisi non possono dipendere dal caso Azzolini. È evidente che l'NCD non può minacciare crisi di governo ogni volta che un proprio rappresentante finisce sotto inchiesta e deve fare poi i conti con le dimissioni. I fatti penali appartengono alla sfera personale delle persone che li compiono, non ai partiti che rappresentano. L'NCD non ha colpa se i propri uomini finiscono nelle inchieste penali. Però non deve nemmeno difendersi ad occhi chiusi. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi anche se si tratta di ministri, di presidenti di importanti commissioni parlamentari. Questo che c'entra col governo? Si può capire la difesa delle persone, la solidarietà, gli inquisiti, la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva. Ma si fa fatica a comprendere il senso di una eventuale rottura politica per una richiesta di arresto. Ne si possono condividere le pressioni su chi deve decidere se dire sì o no all'arresto. Si deve premere invece soltanto per arrivare alla verità. Se Azzolini è stato accusato ingiustamente deve rimanere libero, altrimenti deve andare ai domiciliari.